2 su 2 per il Villabiagio che malgrado le assenze batte 1 a 0 il Mezzolara nell'anticipo con gol di Matteo Brunori conquistando la seconda vittoria di fila e la vetta del girone D di Serie D. Eppure il sabato sembra mettersi subito male per Cocciari che con Gramaccio e Goretti già in box si ritrova anche a dover fare a meno di Vergaini per un problema muscolare nel riscaldamento. E a partire meglio è il Mezzolara schierato da passiatore con un 4-3-3 con Celeste in porta, Melli, Mersuglia, Papagiane e Doncellini in difesa, Carapici, Togna e Giannotti in mediana con De Stefano, Tedesco e Sacca in attacco al quarto d'ora così proprio Tedesco spreca incredibilmente il possibile 1 a 0 sull'assist di De Stefano. 4 minuti e Tedesco prova a fare tutto da solo senza però inquadrare lo specchio. Con il passare dei minuti però il Villabiagio in campo con un 4-3-1-2 con Vitali in porta, Lucaroni, Cangio, oggi capitano, Cenerini e Trequattrini in difesa, Rondoni, Ubaldi e Pettinelli a centrocampo con Rinaldi alle spalle del due d'attacco formato da Brunori e Cardarelli prende le misure. La bisaglia del gol arriva dalla sventola di Brunori che chiede la deviazione di Celeste senza venire accontentato dall'arbitro Angiolari. In mezzo alla ara si rivede alla mezz'ora con Giannotti, poi Cenerini chiude alla grande su Tedesco prima che Lucaroni salvi sul lob di Sacca con Vitali in uscita. Guai però a svegliare Brunori, ecco così che al 38esimo il bomber non perdona, Celeste è battuto e il Villabiagio va sull'1-0. Un giro d'orologio Ubaldi prova subito il raddoppio sempre su assist di Brunori ma Celeste c'è. Nel finale di tempo ci prova ancora Brunori ma Passaianni chiude al momento decisivo. Nella ripresa Canji compie subito un salvataggio che vale un gol chiudendo così su De Stefano. Cocciari pesca allora in panchina fuori Cardarelli dentro Mirval e l'ex Grifone sbaglia l'impossibile al minuto 61 lasciandosi chiudere da Celeste in uscita sull'imbeccata con i contagiri di Rinaldi. Il Villabiagio tiene senza concedere nulla, eccezione fatta per la conclusione del neo entrato Fabri al minuto 81 sull'assist di Sacca. Cocciari passa al 5-3-2 con l'ingresso di Curti per Rinaldi e il Mezzolara sfiora il pari con Togni ma Vitali vola all'angolino blindando l'1-0 che vale la seconda vittoria di fila per il Villabiagio che esce fra gli applausi da Castiglione della Valle ed ora pensa alla trasferta di mercoledì a Montevarchi. Sì sì, Montanucci squalificato e Curti con dei problemi che in settimana non si è quasi mai allenato quindi c'è una vasta gamma di... volevo dire una parolaccia ma me la tengo e quindi prendiamo quello che viene è normale che siamo molto contenti, soddisfatti perché avete visto ci sono delle squadre di livello anche oggi ci ha messo in difficoltà in due o tre circostanze, anche noi avevamo avuto la possibilità di far male poi nel secondo tempo abbiamo solo rischiato di fare il 2-0 in tre e quattro circostanze non siamo stati capaci e con quel tiro di Dallimita ha fatto un bel intervento vitale. L'amarezza di Francesco Passiatore, un Mezzolara che ha partito bene, ha avuto un'occasionissima dopo un quarto d'ora poi è venuto fuori il Villabiagio. Penso proprio di no, penso che il primo tempo sia stato dominato letteralmente la Mezzolara sotto l'aspetto tecnico, fisico e di occasione da gol, siamo arrivati 5-6 volte davanti alla porta quindi la differenza l'ha fatta solamente l'esperienza tra i loro attaccanti e i nostri ma il primo tempo è stata una partita a senso unico quindi credo proprio che il primo tempo se finiva 2-3 a 0 per noi secondo me sarebbe stato un risultato giustissimo. Nella ripresa invece? Nella ripresa giustamente una squadra giovane ha subito un po' il contraccolpo è una squadra che deve crescere soprattutto come mentalità però io se devo ricordare azioni da gol da parte del Villabiagio il gol del primo tempo è un contropiede che secondo me era fuori gioco dopodiché credo non abbiamo mai più tirato in porta quindi credo una partita dove non sono arrabbiato ma sono molto ma molto arrabbiato. Grazie.